Buongiorno ragazzole e ragazzole, come state? Tutto bene? Spero di sì, questo è il video col barbatrucco, l'ennesimo Ormai ci avete preso l'abitudine, anzi potevo anche vestirmi in maniera diversa, visto che... No, vabbè, però non l'ho fatto perché sono simpatica Ho stata lì anche a truccarmi uguale come ieri, apposta per cercare di non farvi accorgere che c'è una leggera differenza Cioè che un pezzo di video l'ho girato ieri pomeriggio, mentre adesso vi sto rifacendo l'introduzione perché non si sentiva tanto bene Vabbè, detto questo, niente, finalmente riesco a caricarvelo, tra l'altro, perché ieri non ci sono riuscita Perché purtroppo internet aveva deciso di morire, dopodiché è resuscitato grazie alla bietolina che ho chiesto in sposa in quel momento Poi è rimorto, poi è resuscitato quando la bietolina mi ha parlato di nuovo, per cui non lo so che cosa ha questo computer È un po' bietola dipendente, tesoro! Comunque, cercherò di stare breve nell'introduzione così il video viene più corto del solito, così lei lì è contenta Che continuano a dirmi, fai video corti perché altrimenti non riesco a vederli tutti interi Ebbene a te Eli e a te Sere che voglio dedicare questo video Perché per colpa vostra io sono tornata a pensare a quell'uomo che ho pensato Ho detto, va, basta, questa cosa la cantono Ebbene sì, ebbene sì, torniamo a parlare di lui in questo video Sì, perché è per colpa loro, mi sono rimessa a guardare tutte le puntate Per colpa loro sto meditando di fare tour così in Inghilterra Ci sono ricascata, ebbene sì, sono tornata nel baratro Sherlockiano Eh, mi spiagge, ma questo ve lo dovevate coccare Prima o poi, tanto so già che non lo guarderà nessuno questo video Per cui tranquilli, non è un problema, non mi offendo Siccome mi è arrivato il secondo DVD, ovvero questo, della seconda serie Io ho visto che, non le insistenti, ho visto che continuavate a nominarmelo Ragazze, voi due, colpa vostra Alla fine mi sono messa a riguardare la seconda serie, così Eh, perché è proprio bellina la seconda serie È molto, è proprio bella E soprattutto, come dire, ho cavalcato l'onda dei ricordi di qualche mese fa E ho cavalcato l'onda dei ricordi di come io ho imparato ad amare così tanto questa serie Ma, allora, iniziamo a parlare di Sherlock Questa serie della BBC Meravigliosa, fantastica, perché mi piace così tanto Niente dati tecnici, perché tanto c'è Wikipedia Vedete, vi metto il link, quelli potete andarvele a vedere Ma, un video delirante su queste due serie di Sherlock Allora, cos'è Sherlock? Sherlock è questa serie della BBC Sono due serie adesso, ma gireranno anche una terza Comprotagonisce Sherlock Holmes Celebre consulting detective inventato da Sir Arthur Conan Doyle Qual è la particolarità di questa serie? Che Sherlock è ambientato ai giorni nostri Tutto qua, al posto di avere penna e calamaio C'è il computer John Watson ha un blog su internet Sherlock che si appiccica ai cerotti di nicotina per evitare di fumare Ha il suo bel cellularino, smartphone con cui si fa tutte le sue belle ricerchine Però è sempre fondamentalmente Sherlock Holmes Sempre lui, sempre il solito Rompiscatole E così Partiamo dall'inizio Allora, questa serie è stata ideata da quei due geni Che sono Mark Gettys e Stephen Moffat Tutti e due grandissimi fan di Arthur Conan Doyle Infatti ci sono riferimenti ai romanzi e racconti ovunque Soprattutto per chi di voi li sa cogliere Perché li ha letti tutti Per cui sicuramente li coglie meglio di me Che io non ne ho letti così tanti E niente, hanno deciso di, come dire, ideare questa serie È uscita la prima serie, che consta di tre puntate E sono uscite nel 2010 Tre puntate da un'ora e mezza l'una Mentre la seconda serie è andata in onda adesso inizio anno, a gennaio Il primo di gennaio è andata in onda la prima puntata Poi tra domenica e di fila Su BBC One sono andata in onda le altre due Perché mi sono messa a guardare Sherlock? Allora io questa cosa l'avevo già detta in un altro video In un video in cui recensivo il segno dei quattro di Arthur Conan Doyle Allora io Sherlock Holmes Il personaggio di Sherlock Holmes Non è che l'ho mai amato particolarmente Non è che sono mai stata una fan Per cui non è che mi sono messa a guardarlo Perché dici sono una fan di Sherlock Holmes No, assolutamente Così era facile ovviamente Il mio cervello non ragiona mai così Io ho visto il film al cinema Quello con Robert Downey Jr., il primo Ed ero andata a vederlo con dei miei amici Tra cui Mauro, grazie Mauro Che è un grandissimo fan di Sherlock Holmes Che si era letto tutti i romanzi Lui lo conosce da Dio Sherlock Holmes Io sono una capra in confronto a lui E dopo un po' Come dire Mi sono messa a leggere uno studio in rosso Mi è stato profondamente sulle scatole Lo Sherlock Holmes dei romanzi Ho detto Ma mai più Ho detto Sherlock Holmes Così antipatico Non lo voglio neanche sentire nominare La mia conoscenza di Sherlock Holmes Si limitava a Basil Investiga Topo Qualche film Di cui non mi ricordo neanche quale Con Basil Ratbo Che qualcuno guardava in casa mia Ma neanche me le ricordo più E soprattutto Piramidi di Paura Chi di voi non l'ha visto Se la vado a rivedere Che è un film meraviglioso Con Sherlock e Watson da giovani Basta Quella era la mia conoscenza di Sherlock Holmes Chiusa parentesi Mi sono Come dire appunto Mi sono messa a leggere uno studio in rosso Dopodiché Mauro mi fa Ah ma sai la BBC Che a te piace Ha fatto una miniserie In tre puntate Con Sherlock Holmes Ambientate i giorni nostri Per fare un favore a lui Lo so che non è carino da dire L'ho scaricata E ho guardato La bellezza di dieci minuti Dopo dieci minuti Mi sono detto Ma cos'è sta cagata E ho spento E non l'ho più recuperata Ce l'avevo lì sul computer Oltretutto Io l'ho anche nominata La mia amica Ellie Che anche lei È una grandissima fan Di Sherlock Holmes Ma anche lei Da tempo comunque Perché aveva letto Tutti i romanzi Lei piaceva tantissimo I film con Bazzi e Ratbon Per cui Lei era molto esperta Anche lei Lei l'ha guardata Non capite Io gli ho detto Guarda guarda Dieci minuti Lei l'ha guardata Questa serie E lei è piaciuta tantissimo Anche lei insisteva Ma guardala Ma guardala che bella Mauro anche lui Ma guardala che bella Io invece l'ho tenuta L'ho tenuta lì sul computer Completamente ignorata L'anno scorso Agosto credo Sì Era agosto Ho anche rischiato la vita Per guardare questa puntata Per guardare la prima puntata Lo dico subito Perché ero a casa Stampellata Per cui I miei unici movimenti Erano letto divano Letto divano Più o meno Non è che mi muoversi Più di tanto Io ho finito Come dire Serie da scaricare E mi sono messa A vedere sto film Che si chiama Amazing Grace Che è su William Wilberforce Che è questo Signore Che ha abolito La tratta degli schiavi In Inghilterra Vabbè Se volete vederlo È un film molto bello E c'è dentro Benedict Cumberbatch In questo film Che è Sherlock E io infatti lo guardavo Dicevo Ma io l'ho già visto questo E infatti Lì fa Sherlock No E allora Niente Che ho fatto Sono andata a controllare Chi ero Ho scoperto Dopo c'era Sherlock Ho detto Vabbè Ho detto Diamogli una seconda opportunità A questo telefilm E allora Mi sono messa a guardarlo Il problema Che era ora di cena Questa è una piccola Stupidata Che vi racconto E una fame atroce Il problema Che io O portavo le due stampelle O portavo il computer Siccome senza le stampelle Non riuscivo a camminare Come dire Mi sono ingegnata Andando a prendere una borsina Infilandoci il portatile Il caricabatterie Ho sceso le scale Con una borsina qua E con le due stampelle Ora Chi di voi Ha mai provato a scendere Le scale con le stampelle Sa che Se non hai nessuno Davanti È un po' Un rischio alla vita Nel senso che Se ti scivola una stampella Rischi veramente Di scivolare Il problema Che se io fossi scivolata Non mi alzavo più Dalle scale Detto questo Sono arrivata Sono arrivata a sana e salva Giù dalle scale E ho finito di guardare La prima puntata E lì È nato il mio amore Infinito Per questa serie televisiva La prima serie Come vi ho detto Sono queste tre puntate La prima si chiama Study in Pink Ed è proprio Narra L'inizio Inizio Inizio Della Amicizia Collaborazione Chiamatela come volete Tra Sherlock Holmes E il dottor Watson Sherlock Holmes Appunto È Benedict Cumberbatch Mentre il dottor John Watson È Martin Freeman La prima puntata Appunto inizia Con loro due Che si trovano Vanno a vivere Al famoso 221B Di Baker Street E iniziano a investigare Su questo omicidio Su questa serie Di omicidi suicidi Di cui è protagonista Anche questa signora Completamente vestita di rosa Da qui A Study in Pink Che si rifà A uno studio in rosso Che era il primo romanzo Di Arthur Conan Con protagonista Sherlock Holmes La prima puntata è fantastica Vabbè Introduce ovviamente Tutti questi personaggi Introduce il personaggio Di Sherlock Holmes Di Lestrade C'è Mycroft C'è un po' di tutti C'è la mitica Mrs. Hudson Che è la land lady La padrona di casa Di Sherlock E di John Insomma È meravigliosa La prima puntata Sherlock Non è Lo Sherlock Per chi di voi Non l'ha mai visto Questo telefilm Non aspettatevi Lo Sherlock Holmes Di Robert Downey Jr Questo è un potente Rompipalle Bisogna dirlo Cioè È uno che a volte Veramente Prenderesti a ceffoni Su un naso Perché è veramente Insopportabile a volte Perché È completamente Come dire Manca completamente Di sentimenti Di sintonia Con le altre persone Lui non capisce Se una persona soffre Magari quando tu gli fai Determinati commenti Non capisce Che una persona Possa soffrire dentro Per delle cose Che gli sono successe Anche magari 20 anni prima Questa è un po' Proprio che lui Assolutamente Non Proprio non gli passa Neanche per l'anticamera Del cervello Questo E questo è più o meno Il leitmotiv Del personaggio Di Sherlock Holmes Nella prima serie Anche se poi Cambierà abbastanza Nella seconda La seconda puntata È The Blind Banker Che diciamo Tra tutte le puntate Quella più deboluccia Da vedere Ma sicuramente Non la migliore La terza puntata È invece The Great Game The Great Game È importante È una puntata A parte molto bella Che finisce con Un famosissimo cliffhanger Che ha lasciato i fan In sospeso per mesi Di chiedersi Cosa sarebbe successo Ma è la puntata Che introduce Il mitico personaggio Di Moriarty Non vi aspettate Il classico Professor Moriarty Perché non è Non è assolutamente Lui È completamente diverso Completamente folle Però E poi ovviamente Voi vedrete Come è questo Moriarty Che si vede poco In questa prima serie Ma che nella seconda serie Dà la prova assolutamente Della sua cattiveria Se non siete convinti Di questo personaggio Alla fine della prima Vedrete che Alla terza puntata Della seconda serie Vi ricrederete Perché è veramente Un malvagio La seconda serie Che è questa Sono sempre tre puntate La seconda serie È iniziata Il primo di gennaio Di quest'anno Ben me lo ricordo Perché è anche Alcuni di voi Che sanno È la mia traversia Per riuscire a guardarlo Live La domenica sera Dalla BBC Tra l'altro facendo Anche il conteggio Perché a Londra Sono un'ora Indietro rispetto a noi Per cui Erano le nove di sera Quando ho iniziato Perché l'ha fatto Alle otto di sera Tra l'altro facendo Il 30% E rotti di share Senza pubblicità Senza niente Alla BBC E sono dei cazzo Di geni Scusate se lo dico Ma Cioè Loro sono Meravigliosi E Ho anche Come dire Scortesemente Abbandonato il tavolo Della cena C'erano anche ospiti Quella sera Vabbè La champère Perché hanno capito Il mio problema Che ero lì così A tavola Qualcosa Devo andare A un certo punto Questa amica D'Anie che fa No ma Jessica Se devi andare di sopra Guardare Sherlock Holmes Vai Che figuraccia Vabbè Entri Sono andata di sopra Mi sono ritornata in camera A cercare di far funzionare Il computer Alla fine Più o meno Sono riuscita a guardarla Questa prima puntata La prima puntata Della seconda serie È Tratta da Uno scandalo In Bohemia Scandal in Belgravia Si chiama E introduce E introduce Il personaggio Di Irene Adler Che non si sa Se poi tornerà Nelle altre serie Comunque A me all'inizio Questo personaggio Non è che sia piaciuto tantissimo Però mi sono ricreduta Perché alla fine Invece è molto interessante Non vi aspettate Di vedere L'Irene Adler Anche qui Del film Il rapporto tra Sherlock E Irene Qui ha un filino Diverso Però è molto interessante Devo dire che a me Questo episodio O primo episodio Mi era piaciuto tanto So che tanta gente Non è d'accordo Perché tanti Come dire Scippano Scusate questo linguaggio Un po' giovanile Sherlock e John Che li vorrebbero Vedere insieme Come coppia Io non sono Cioè a me Francamente No Perché A me piaceva Questa coppia Sherlock e Irene Anche se io Credo profondamente Che Sherlock Holmes Sia uno che se ne frega Abbastanza donne Uomini O quant'altro Comunque Detto questo La prima puntata È veramente molto interessante Anche se è un po' Malinconica Alla fine Un po' triste Lui mi fa Non tristezza Però Questo senso di abbandono Mi ha lasciato addosso Poverino Come dice Serena Povero cucciolo Alla fine Che mi voglia Di andare ad abbracciarlo Lo Sherry E tra l'altro Ha messo su Kili Scusate La piccola digressione Ma Gli saltavano i bottoni Delle camicie Volevo dire Costumisti Cambiatevi le camicie Al camber Poverino Gli saltavano i bottoni E ha migliorato Anche la capillatura Devo ammettere Nella seconda serie Vedi dei ricci Più belli del solito Ce la posso fare Smettere di dir cagate La seconda puntata Invece Della seconda serie Tratta dal mastino Dei Baskerville Questa però Si chiama The Hounds Of Baskerville Mentre nell'originale Era The Hound Of The Baskerville Perché era la famiglia Qua in realtà Baskerville È questa specie Di laboratorio In cui si fanno Degli esperimenti Che ben non si sa Quella Stapleton Del romanzo Qua diventa Una dottoressa Stapleton Se quelli che voi Hanno letto il romanzo Se lo ricordano Harry Knight Rimane fondamentalmente Lo stesso Invece La storia è Per minuti 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 e minuti Minuti e minuti E mi ha lasciato In angoscia Per delle mezz'ore Successive Tanto che ci ho messo Un casino Andare a dormire Poi perché non riuscivo Più a farlo Che è la puntata Che si chiama The Reichenbach Fall Famosissima puntata Tratta da Si chiama The Final Problem Penso Il racconto Da cui è tratta Cioè Lo scontro Decisivo E finale Tra Sherlock E Moriarty E in questa puntata Moriarty È di una cattiveria Che voi non potete Neanche immaginare C'è una scena In cui ci sono Sherlock Fa una faccia Più di stupore Per una cosa Che è architetta Moriarty Io ho fatto La stessa identica faccia Ero talmente Incacchiata In quel momento Che aveva preso A cazzotti Lo schermo Per prendere A cazzotti Moriarty Perché è veramente Di una bastardaggine Enorme Cattivissimo Veramente cattivissimo Bastardo Allucinante Bene Io ho queste E poi vabbè Non vi dico Perché piangerete Comunque Una cosa meravigliosa È che Poco prima di questa puntata In cui si sa Quello che doveva succedere Io non ve lo dico Perché magari voi I loro manzi Non li avete letti Non lo sapete Cosa succede La fine di questa puntata I fan lo sapevano Cosa doveva succedere Il problema È che Continuavano a mandare Messaggi su twitter A Gettis e Moffat Dicendo No ma non potete Far finire così Ma ci sarà una terza serie E questi si trovavano Le risposte più fantasiosi Di questo mondo Per rispondere Ai fan No Ma delle cose Proprio Più da struzzi Scusate Alla fine C'è gente C'è gente che gli ha offerto Il primo genito Vi prego Vi offro il mio primo genito Se non fate succedere Questa cosa Se fate che ci sia Una terza serie Oltretutto Gli attori Quando li intervistavano Scusate Scusate Cellulare Ovviamente Come sempre Vi stavo dicendo Addirittura Gli attori Quando li intervistavano Facevano i trolloni E daranno loro stessi A dire No ma non credo Che tornerò Per la terza serie Perché Cioè Quando vedrete Come finisce la seconda Capirete che è impossibile Che ci sia una terza serie Questo è il camberba C'è quel simpaticone Che racconta ste cose E invece Questa la devo dire Perché è veramente Una cattiveria Anche questa Quando è finita La seconda serie Appena è andata in onda L'ultima puntata Subito alla fine Questo è subito Su twitter Ha mandato il messaggio Su scritto Ma certo Che ci sarà una terza serie La sapevamo ancora prima Che andassi in onda La seconda Quanto li odio Odio profondamente Quei due Quanto profondamente Li odio Bastardi Tutte e due Comunque Io Se voi non li avete viste Sherlock O vi comprate i dvd Che non costano neanche tanto Tra l'altro Il tipo Quello della prima serie L'avevo pagato 6 euro 6 euro e 50 Questo qui Vabbè Della seconda Ovviamente Essendo appena uscito L'ho pagato un po' di più Costa 17 euro Tipo Su play.com Se no Potete trovarlo Con altri metodi E se avete bisogno Perché non capite Come si caricano I sottotitoli Potete anche chiedermelo Perché Tanto io vi aiuto Per guardare Sherlock Non è un problema Questa serie È Fantastica Io La adoro Se ancora Non si fosse capito Perché Oltre ad essere geniale Per via di tutti I riferimenti Che si fa Lo Sherlock Holmes Classico Nonostante questo C'è uno Sherlock Holmes Ambientato ai giorni nostri È Scritta da Dio Recitata In maniera meravigliosa Per cui Vi prego Vi prego Vi prego Se riuscite Guardatela in inglese Anche con i sottotitoli In italiano Ma guardatela in inglese Perché in italiano È doppiata Di merda Devo dirlo Io odio La voce Che hanno dato A Benedict Cumberbatch È una cosa inascoltabile Oltretutto Gliel'hanno cambiata Quando è andata in onda Su Italia 1 Pensando di fare Un favore Immagine In realtà È una voce Che è anche Quella oscena Per cui Se riuscite Guardatela in inglese Perché Lui è una voce Fenomenale È bellissima È una voce Ascoltare in inglese Lui come recita Oltre al milione Di riferimenti Vabbè Io Decisamente Preferisco la seconda serie Ma forse perché Mostrano Sherlock Holmes Un po' più umano Rispetto alla prima Nella prima Lui fa ridere Ogni tanto Per le cose Che spara Completamente Insensibili Nei confronti Degli altri Il problema È che Io mi metto Nei panni Di chi si riceve Queste Come dire Questi commentini Suoi E dico Cacchio Se fossi stato io Altro che guardare Per terra Quando mi guardavo Gli molava Una stringa Sul naso Mentre nella seconda Si stiamo Proprio a un cambiamento Abbastanza radicale Nel suo carattere Cioè Lui rimane sempre Sherlock Holmes Però Come dire Riesce a recepire Un po' di più I sentimenti E soprattutto A Simpatizzare Con i sentimenti Degli altri E riesce anche Un po' di più A gestire Le relazioni Con gli altri Che sia con John Con cui diventa Molto amico Ovviamente Che sia con Con tutti gli altri Sì ogni tanto C'è ancora da ridire Mentre ogni tanto Quando è incavolato Quando non ha niente da fare Ed è bored Annoiato Si incacchia ancora E fa ancora Come dire Suoi ragionamenti Folli A scapito Delle altre persone Però Quando vuole Essere molto carino Anche con Molly Molly che è L'assistente di laboratorio Che è Innamorata Versa Di Sherlock Nell'ultima puntata Poi vedrete Che cosa succede Non lo aspettate Niente di che Però c'è una scena Che è molto carina Alcuni addirittura Hanno detto No ma in realtà Lì Sherlock Fingeva Perché gli serve Molly Io non ci credo Assolutamente Questa cosa Per me È proprio un cambiamento Che fa lui Nel senso che Non è Non dico che diventa Più buono Ma Riesce un pochino Di più a interagire Con gli altri Capire meglio I sentimenti Degli altri Non è che lui diventa Un sentimentale Non vi aspettate Che diventa tutto Buonino Carino Gentilino È fondamentalmente Sempre lo stesso Un filino Più empatico Ecco Tutte e due le serie Sono soltanto sei puntate È vero Da un'ora e mezza All'uno Ma vi assicuro Che quando le avrete finite Ne vorrete delle altre Perché tutti Sono così Tutti a quelli Che io ho dato il tormento Per guardarle La fine mi dicevano Quando arriva la terza serie Per cui Sicuramente anche voi Finirete a chiedere Quando arriva la terza serie Iniziano a girarla All'inizio dell'anno prossimo Per cui Ne manca Chi di voi Vuole andare a Londra A sgamare gli attori Quando iniziano a girare la serie Me lo dica Che andiamo Io ci sto Non vi preoccupate Chi di voi Vuole andare a farsi un giro Al museo di Sherlock Holmes E a cercare tutti i luoghi Di questa serie di Sherlock Perché la serie Non è girata in Baker Street Ma in un'altra via Lì Penso abbastanza vicino Baker Street Ma non è proprio lì Per cui Chi di voi Vuole andare a fare il tour Dello Sherlock Della BBC Io ci sto Sappiatelo Ci sono anch'io Fatemelo sapere E Dopo questo video Assolutamente delirante Io adesso vi saluto Vi auguro buona visione Fatemi sapere cosa pensate di Sherlock Del Benny Di Martin Di tutti questi personaggi Come vorreste che Si evolva questa serie Raccontatemi Vabbè Tutto quanto Volete Su Su Sherly Un bacio E Grazie che mi sopportate Su questa cosa Di Sherlock Holmes Bene Sherlockiana anonima Io ci sto Ciao ragazzi Grazie a tutti Ciao a tutti